Ad agosto del 1986, impressionanti file di giovani in cammino appaiono sulle strade e i sentieri del Parco Nazionale d'Abruzzo. Sono scout fra i 16 e i 20 anni che stanno per dar vita alla RUT, cioè al Campo Nazionale per Rover Escolte, la branca dello scoutismo dedicata alla loro età. Sarà un evento storico e un clamoroso successo organizzativo. RUT in francese significa strada, ma per i Rover e l'Escolte la strada non è soltanto un luogo da percorrere fisicamente, è la metafora di un cammino. Un elicottero dell'aeronautica italiana con i colori bianco e giallo della città del Vaticano, sorvola il Parco Nazionale d'Abruzzo ed atterra i piani di Pezza. È il 9 agosto 1986. Papa Giovanni Paolo II infrange subito il protocollo e va deciso verso i giovani che lo aspettano assepati in una meravigliosa conca naturale. A voi che vi avventurate su strade, a volte difficili, irte di pericoli, sconosciuti, l'esempio di Abramo valga come stimolo a costante tenacia e perseveranza, così da non lasciarvi mai sopraffare dagli ostacoli e dallo scoraggiamento. È nato un rapporto destinato a durare a lungo. Quando nel 2004 avverrà l'ultimo incontro fra Carol Boitila e i ragazzi con il fazzonettone e la camicia azzurra, saranno passati quasi vent'anni. Gli scout continuano ad applicare, ad innovare il metodo di BP, ad inventare e vivere nei boschi e sulle strade magnifiche avventure educative. Ma che testimonianza danno nel mondo che cambia così velocemente attorno? Ha ancora senso continuare ad essere scout? I campi, i giochi, canzoni e risate davanti al fuoco non durano per sempre. Per molti, come arrivò il giorno della promessa, arriva il momento di un altro rito, chiamato la partenza e questa volta è un rito di saluto. A un certo punto c'è l'avvio alla strada e c'è la partenza. Però scout nella vita vuol dire con sempre lo spirito scout. Anch'io mi sento ancora scout per questo. Tutta la vita. se mi guardo indietro, io ormai ho 98 anni, se mi guardo indietro, mi ricomincierei a capo. Ognuno porta con sé le esperienze che ha avuto la fortuna di vivere in un'età importante. Ma dopo, che legame resta con questi giorni? Per quanto tempo dura quella famosa promessa? La promessa scout? Dunque. Quanto dura come impegno? Come quanto dura? Pochi minuti. Quanto dura la promessa scout? Un bel po' credo. Ah, come impegno dura una vita? So che questa promessa mi accompagnerà fino alla fine. Si vuole dire sempre. Se do una parola devo mantenere, quindi dura tutta la vita. È retorico però. Tutta la vita o un minuto, insomma, il minuto di dirla e poi tutta la vita.